Sono Antonio e siamo qui a Bistrovo Le Joa de Mio. La svolta della mia vita è stata mia moglie, una donna giapponese alla quale devo anche tutto questo. E grazie a lei e alla sua cultura ho percepito il vero punto del cliente. Questo locale praticamente sintetizza tutto quello che è il mio bagaglio culturale e professionale. La nostra cucina è una cucina prettamente mediterranea, senza trascurare una piccola parte anche internazionale per dare la possibilità a più palati di apprezzare quello che possono essere le nostre varie portate. Il concetto primario che io cerco di trasmettere ai miei collaboratori è che quando qui entro un cliente è come se stesse arrivando l'ospite più importante a casa sua.